il treno regionale 29 07 di trenitalia proveniente da bologna centrale e diretto a pesaro delle ore 2 e 27 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabice il treno regionale 29 16 di trenitalia proveniente da pesaro e diretto a bologna centrale delle ore 3 e 37 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini miramare rimini sant'arcangelo di romagna savignano sul rubicone gambettola cesena for l'impopoli forli faenza castel bolognese imola castel san pietro terme bargnana il treno regionale veloce 21 24 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a piacenza delle ore 5 e 47 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini miramare rimini cesena forli faenza castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale 33 998 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a piacenza delle ore 5 e 47 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini miramare primini igea marina cesenatico cervia milano marittima lido di classe lido di savio rabenna gogo russi bagnacavallo lugo solarolo castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale 12 005 di trenitalia proveniente da rimini e diretto ancona delle ore 5 e 56 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gaddice pesaro fano marotta mondolfo senigallia marzocca monte marciano falconara marittima ancona torrette il treno regionale 11 5 8 9 di trenitalia proveniente da rabenna e diretto a pesaro delle ore 6 e 24 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabdice il treno regionale 34 0 1 8 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a piacenza delle ore 6 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini igea marina cesenatico cervia milano marittima lido di classe lido di savio rabenna godo russi bagnacavallo lugo solarolo castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale 33 9 3 8 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a imola delle ore 6 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini cesena forlì faenza castel bolognese castel bolognese il treno regionale veloce 11 5 2 6 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a piacenza delle ore 6 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini cesena forlì faenza castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno freccia bianca 88 53 di trenitalia proveniente da ravenna e diretto a roma termini delle ore 6 e 47 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro falconara marittima jesi fabriano foligno terni la prima classe è in testa al treno il treno regionale 21 5 2 1 di trenitalia proveniente da rimini e diretto a ancona delle ore 6 e 56 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gaddice pesaro fano marotta mondolfo senigallia marzocca falconara marittima ancona torre il treno regionale 12 00 9 di trenitalia proveniente da rimini e diretto a pesaro delle ore 7 05 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare il treno regionale 11 5 9 1 di tifè proveniente da ravenna e diretto adriano mesano adriatico cattolica san giovanni gabdice il treno regionale 12 00 4 di trenitalia proveniente da pesaro e diretto a rimini delle ore 7 e 12 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare il treno regionale 11 5 9 1 di tifè proveniente da ravenna e diretto a pesaro delle ore 7 e 40 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare primini rimini fiera cesena forli faenza castelbolognese il treno regionale di treno regionale 33 9 4 0 di trenitalia proveniente da ancona e diretto a imola delle ore 7 e 49 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare primini rimini fiera cesena forli faenza castelbolognese il treno regionale 33 9 7 5 di trenitalia proveniente da bologna centrale e diretto a ancona delle ore 9 04 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabdice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno regionale 33 9 31 di trenitalia proveniente da imola e diretto a ancona delle ore 9 e 11 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gabdice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno intercity 603 di trenitalia proveniente da un treno regionale veloce 11 407 di trenitalia proveniente da piacenza e diretto a ancona delle ore 9 e 11 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gabdice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno intercity 603 di trenitalia proveniente da bologna centrale e diretto a lecce delle ore 9 e 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro fano senigallia ancona civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto giulianova pescara centrale vasto san salvo termoli san severo foggia barletta trani bisceglie molfetta bari centrale monopoli fasano ostuni brindisi il treno intercity 35603 di trenitalia proveniente da rimini e diretto a foggia delle ore 9 e 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro fano senigallia ancona civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto giulianova pescara centrale vasto san salvo termoli san severo il treno intercity 604 di trenitalia proveniente da pescara centrale e diretto a milano centrale delle ore 9 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini cesena forli faenza bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza piacenza lodi milano rogoredo il treno frecciabianca 88 81 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia è diretto a lecce delle ore 9 44 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro ancona pescara centrale termoli foggia barletta bari centrale fasano brindisi carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno regionale veloce 11 5 3 0 di trenitalia proveniente da ancona è diretto a piacenza delle ore 9 54 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini rimini fiera cesena forli castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale veloce 21 23 di trenitalia proveniente da piacenza è diretto a ancona delle ore 10 e 14 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabbice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno regionale 17 92 di trenitalia proveniente da arezzo è diretto a ancona delle ore 10 e 28 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabbice pesaro fano senigallia falconara marittima il treno frecciabianca 35 8 8 1 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia è diretto a foggia delle ore 10 e 30 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro ancona pescara centrale termoli carrozze dalla 1 alla 30 sta al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno frecciabianca 88 83 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a lecce delle ore 10 e 44 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro ancona pescara centrale termoli foggia barletta bari centrale monopoli ostuni brindisi carrozze dalla 1 alla 30 sta al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno inter city 605 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a taranto delle ore 11 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gaddice pesaro fano senigallia ancona civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto giulianova pescara centrale vasto san salvo termoli san severo foggia barletta trani bisceglie molfetta bari centrale gioia del colle il treno frecciabianca 35 8 8 3 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a termoli delle ore 11 32 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro ancona pescara centrale carrozze dalla 1 alla 30 sta al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno intercity 606 di trenitalia proveniente da bari centrale è diretto a bologna centrale delle ore 11 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini cesena forli faenza il treno intercity 35 3 0 6 di trenitalia proveniente da foggia è diretto a rimini delle ore 11 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 34 0 6 1 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a pescara centrale delle ore 12 e 03 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gaddice pesaro senigallia ancona camerano aspio loreto porto canati civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto alba adriati canareto giulia nova il treno frecciabianca 88 87 di trenitalia proveniente da torino porta nuova è diretto a lecce delle ore 12 a 44 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro ancona pescara centrale termoli foggia barletta bari centrale monopoli ostuni brindisi carrozze dalla 1 alla 30 sta al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno regionale 65 10 di trenitalia proveniente da pesaro è diretto a ravenna delle ore 13 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 71 di tifer proveniente da bergamo è diretto a pesaro delle ore 13 e 08 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gabice san giovanni gabice il treno intercity 607 di trenitalia proveniente da bologna centrale è diretto a bari centrale delle ore 13 e 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gabice pesaro fano senegallia ancona civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto giulianova pescara centrale vasto san salvo termoli san severo foggia barletta trani bisceglie molfetta il treno frecciabianca 35 287 di trenitalia proveniente da torino porta nuova è diretto a ancona delle ore 13 30 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pesaro carrozze dalla 1 alla 30 sta al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno intercity 608 di trenitalia proveniente da lecce e diretto a bologna centrale delle ore 13 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini cesena forlì faenza il treno intercity 15 45 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a lecce delle ore 14 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gabice pesaro fano senegallia ancona civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto giulianova pescara centrale vasto san salvo termoli san severo foggia barletta trani bisceglie molfetta bari centrale monopoli fasano ostuni brindisi il treno regionale 17 70 di tifer proveniente da pesaro è diretto a bergamo delle ore 15 e 18 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare primini rimini riserva igea marina bellaria gatteo amare cesenatico cervia milano marittima lido di classe lido di savio rabenna ferrara sermide poggio rusco ostiglia nogara brescia rovato palazzolo sull'olio grumello del monte il treno intercity 15 46 di trenitalia proveniente da lecce è diretto a milano centrale delle ore 17 e 19 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini cesena forli faenza bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza piacenza lodi milano rogoredo il treno intercity 612 di trenitalia proveniente da taranto è diretto a milano centrale delle ore 17 e 34 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini cesena forli faenza bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza piacenza lodi milano rogoredo il treno regionale 17 55 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a pescara centrale delle ore 10 e 52 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cattolica san giovanni gabbice pesaro senegallia ancona camerano aspio loretto porto recanati civita nova marche porto san giorgio fermo san benedetto del tronto alba adriati canareto giulianova il treno regionale 34 064 di trenitalia proveniente da pescara centrale è diretto a milano centrale delle ore 19 e 19 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini cesenatico cervia milano marittima rabenna faenza imola castel san pietro terme bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola piacenza lodi milano rogoredo il treno regionale 17 54 di trenitalia proveniente da pescara centrale è diretto a milano centrale delle ore 19 e 19 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini cesena forli faenza imola castel san pietro terme bologna centrale modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola piacenza lodi milano rogoredo il treno regionale 11 6 0 2 di trenitalia proveniente da ancona è diretto a rabenna delle ore 17 13 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale veloce 21 36 di trenitalia proveniente da ancona è diretto a piacenza delle ore 17 e 46 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini miramare primini rimini fiera cesena forli faenza castelbolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale veloce 21 27 di trenitalia proveniente da piacenza è diretto a ancona delle ore 14 e 13 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma misano adriatico cattolica san giovanni gaddice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno regionale 17 94 di trenitalia proveniente da ancona è diretto a rezzo delle ore 18 e 18 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini bologna centrale san benedetto sambro prato firenze rifredi firenze santa maria novella firenze camponarte ponta sieve figline valdarno san giovanni valdarno monte barchi terra nuova il treno regionale 33 997 di trenitalia proveniente da piacenza è diretto a ancona delle ore 17 04 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a rimini miramare primini igea marina città misano adriatico cattolica san giovanni gaddice pesaro fano marotta mondolfo senigallia falconara marittima il treno regionale 34 008 di trenitalia proveniente da ancona è diretto a piacenza delle ore 17 e 46 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini miramare rimini igea marina cesenatico cervia milano marittima lido di classe lido di savio rabenna godo russi bagnacavallo lugo solarolo castel bolognese imola castel san pietro terme bologna centrale castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola